unisce. Vedrete le immagini e comprenderete nel nostro servizio quanto devastante sia stata la situazione, oltretutto non si prevede un miglioramento delle condizioni, si parla di rischi anche a risalire per tutta la costa orientale fino alla Catalogna, ma questa è ovviamente la notizia di apertura del telegiornale, che ha molti fatti anche italiani, perché il governo ha usato di una tecnica che evidentemente gli è consentita e il Parlamento ha allegato al decreto flussi come emendamento quello che era l'altro decreto, quello sui paesi sicuri. Stiamo sempre parlando della disputa di fatto chiarissima con la magistratura, il braccio di ferro sulla questione dei rimpatri, i paesi definiti sicuri per i rimpatri. si sa che ieri il Tribunale di Bologna, con motivazioni anche che hanno creato ulteriore elemento di duro urto con la maggioranza di governo, ha chiesto alla Corte di Giustizia europea di stabilire se il decreto italiano è in linea con quello che aveva già elencato l'Europa stessa, la Corte stessa, con in più quel paragone con la Germania di Hitler che sicuramente non ha addolcito gli animi, per usare un eufemismo. Ma ovviamente ci sono anche altre questioni, c'è ancora quella inchiesta sui dossier di Milano e la costola romana anche e ci sono forti nervosismi che derivano anche, perché non ricordarlo dall'esito delle elezioni regionali in Liguria, soprattutto per una forza politica, il Movimento 5 Stelle, che è nell'occhio del ciclone e che si avvicina al suo snodo quasi congressuale, come si sa sotto la guida di Conte. Ma in realtà tra 20 giorni si vota ancora in Emilia Romagna e in Umbria e quest'ultima dell'Umbria può essere la partita decisiva. su tre regioni, dando per scontato la vittoria del centro-sinistra in Emilia Romagna, conta ovviamente, vincerà chi avrà vinto in Umbria. Ma come vedremo ci sono i fatti internazionali anche che sono importanti perché c'è un'ipotesi di tregua che riguarda sia il fronte di Gaza sia quello del sud del Libano, lo stanno mediando americani, egiziani, catarioti, per conto, nell'interesse evidentemente da una parte di Israele e dall'altra parte delle tre H, chiamiamole così Hamas, Houthi e Hezbollah. Sarebbero quattro settimane di tregua con scambi tra gli ostaggi che verrebbero liberati, alcuni ostaggi, il numero non è ancora chiaro, e i prigionieri che sono nelle carceri di Israele. Ma poi c'è anche quello che stiamo tutti aspettando, tra sei giorni il voto negli Stati Uniti, una gaffe di Biden permette a Trump di, in qualche modo, di richiamare e di coinvolgere l'opinione pubblica contro quello che sembra un appellativo sprezzante nei confronti di coloro che saranno gli elettori dell'ex Presidente repubblicano. Il clima è di tensione e è inutile non dirlo, sono in molti a pensare che in questo momento l'inerzia stia dalla parte di Trump, ma vedremo martedì sera della prossima settimana. Ci sono molti altri fatti, la questione delle automobili, la crisi dell'auto, le decisioni europee, lo sciopero generale proclamato da CGL e Will, ma non dalla CISL e fatti anche di cronaca, gravi e importanti, tra cui un incredibile ritorno al passato, l'anno prossimo un processo alle Brigate Rosse per un agguato mortale del 1975. Ci sono le prove del coinvolgimento di quelli che erano i capi brigattisti. Nella sparatoria in cui morì la moglie del leader Renato Curcio delle Brigate Rosse, ma morì anche un funzionario dello Stato. Sono state trovate le impronte di uno dei leader delle Brigate Rosse, è ancora vivo, andrà sotto processo. Questo e altro, tra un minuto.